Il sospiro di sollievo lo tirano i residenti del quartiere, non ce la facevano più a vedere l'ammasso di ferro in queste condizioni. Così dallo scorso 22 maggio quando un violento nubifragio riuscì addirittura a sollevare dal sottosuolo l'isola ecologica di via Saragat alla periferia di Foggia. Il comune ha provveduto a rimuoverla, qui ne sarà installata un'altra, sempre interrata, proprio come se ne trovano in diverse zone della città utilizzate per la raccolta dei rifiuti. Manterremo le promesse, dice il presidente dell'AMIU Bari, società subentrata all'Amica, la storica azienda di igiene pubblica fallita lo scorso inverno a causa dell'imponente massa debitoria superiore ai 60 milioni di euro. Bisogna migliorare perché bisogna completare la sostituzione dei cassonetti. Tenete conto che ne abbiamo sostituiti oltre mille da quando siamo noi qua, continuiamo a sostituirli, quindi stiamo rifacendo tutto il sistema di raccolta anche per migliorare la differenziata. Attendiamo il finanziamento che venga attuato, il finanziamento della regione Puglia tramite il comune che ha già fatto la gara in modo tale da implementare in modo completo la raccolta differenziata. Sembra passato un secolo eppure fino a pochi mesi fa le strade di Foggia erano piene di rifiuti raccolti a singhiozzo a causa dei frequenti scioperi dei lavoratori che protestavano sia per i ritardi nel pagamento degli stipendi che per l'incertezza del loro futuro. L'obiettivo del comune ora è quello di potenziare la raccolta porta a porta. Abbiamo da recuperare un gap sulla raccolta differenziata, però siamo anche lì in fase operativa molto forte per sia l'acquisto di mezzi e di strumentazioni sia l'utilizzo dei bandi regionali dei quali Foggia è assegnataria.